Salve a tutti i giocatori e benvenuti in un nostro nuovo video Se sentite la voce un po' così è perché mi sono appena svegliato Dato che ogni tanto la mattina vedo se ci sono degli aggiornamenti riguardanti il mondo dei Yugi Magari mi sveglio presto e faccio una scrollatina, una ricerca E sono uscite le carte di Albats of Strike Quindi appena le ho viste mi sono fiondato a registrare Quindi magari se volete supportare queste mie follie con un'iscrizione sarebbe veramente bellissimo Allora le carte sono veramente molto forti e andremo a vederle Allora la prima, Branded Sword, possiamo utilizzare il primo e il secondo effetto Con il nome di questa carta una volta per turno Bandiamo qualsiasi numero di mostri Branded Spell Trap dal cimitero Per specialare altrettanti Ice Blade Token oscurità livello 8, 2005, 2000 Quindi fortissimo anche perché ti cala Mostri di livello 8 Possiamo bandire questa carta al cimitero per targettare una carta bandita Fallen of Albats Ovviamente un mostro che lo cita nel testo e lo aggiunge alla mano Quindi carta veramente forte, ti toglie quello che magari ormai non ti serve più Dal cimitero per farti specialare altrettanti token Quindi una veramente molto molto forte Poi Branded Condemnation Possiamo utilizzare il primo e il secondo effetto con il nome di questa carta una volta per turno Quando una maggiore di una trappola o l'effetto di un mostro è attivato Che include l'effetto di specialare mostri Possiamo far ritornare un mostro che cita nella sua lista La Fallen of Albats come materiale nell'extra deck Uno che controlliamo oppure due dal cimitero Se lo facciamo neghiamo l'attivazione E poi spacchiamo la carta Quindi abbastanza un po' complicatina come countertrap Però è molto buona Possiamo bandire questa carta al cimitero per targettare una carta Branded Spelltrap Appunto nel cimi Eccetto questa carta E aggiungerla alla mano Quindi neghino sempre di archetipo E molto molto buono Poi andiamo sulle chicche Quindi sulle carte fusioni Attenzione Attenzione Abbiamo Rebellion Divine Flame Dragon Mostro luce 2005 2000 Un mostro oscurità più Fallen of Albats In effetti una volta aperto uno Se questa carta è evocata tramite fusione Possiamo scartare una carta E facciamo una fusione di un mostro livello 8 O inferiore fusione dal nostro extra deck E cento lui Mischiando i materiali da fusione Nel deck Dal terreno oppure al cimitero Quindi O anche dalle carte bandite scoperte Quindi ti fa fare una fusione praticamente ovunque Ed è una grandissima carta Per riciclarti tutto quello che ormai ti sei tolto Quindi direi che è una carta veramente molto molto buona L'effetto è solo questo Ma è un effetto di riciclo Quindi molto importante Per finire abbiamo Abbiamo il mostro di copertina Mi sa di sì Il mostro di copertina E Miros Jade Ice Blade Dragon Attacco 3000 Difesa 2005 Fallen of Albats Più un mostro fusione Synchro Exist Oppure Link Quindi ci serve un mostro di extra Possiamo utilizzare il primo effetto Cioè possiamo controllare soltanto uno di lui Una volta per turno Effetto rapido Possiamo mandare un mostro fusione Che cita Fallen of Albats Come materiali dall'ex deck Al cimitero Per bandire Un mostro sul terreno Questo effetto non può essere usato di nuovo Nel prossimo turno L'effetto non targetta Quick effect Potrebbe essere veramente molto molto buono Fa sia l'interruzione Che magari toglie roba problematica Se questa carta lascia il terreno A causa di una carta dell'avversario Possiamo spaccare tutte le carte Che controlla durante la end phase Quindi Il primo effetto Se si potesse utilizzare una volta per turno Sarebbe veramente molto forte Cioè nel senso Tu lo attivi Il turno dopo Non lo puoi più attivare Però comunque rimane un banded Che non targetta in più Ricordiamo che possiamo utilizzare mostri Abbiamo visto Che abbiamo la fusione Possiamo utilizzare mostri già banditi Già che abbiamo mandato via Quindi Potrebbe essere Veramente grossissima come carta Devo dimmettere A me piace veramente tanto Poi combinata con tutto il reparto Albats Compagnia cantante Potrebbe essere veramente Molto molto buono Detto questo Poi se usciranno altri aggiornamenti Porterò magari Oggi pomeriggio il video Detto questo Noi come sempre ci vediamo In un prossimo video Fatevi sapere cosa ne pensate E un saluto a tutti Non ci vediamo